Si complica tremendamente la rincorsa verso la salvezza della Virtus Lanciano. Dal Tribunale federale arriva la stangata, 5 punti di penalizzazione da scontarsi nell'attuale campionato. La Virtus scende da 43 a 38 punti in classifica, in zona play-out, appena un punto sopra la zona retrocessione. Il collegio giudicante, presieduto da Sergio Artico, ha poi inflitto 5 mesi e 15 giorni di inibizione per l'amministratore protempore Claudio Di Menno di Bucchianico, due mesi al presidente del collegio sindacale della Virtus Lanciano, Angelo Castrignano, e 6.500 euro di ammenda alla società. E questo il verdetto di primo grado relativo ai tre deferimenti a carico della società frentana, che sono stati riuniti su richiesta della difesa. Il primo relativo al mancato deposito presso la Covizoc, lo scorso 16 dicembre, delle dichiarazioni attestanti il pagamento di ritenute e contributi per i bimestri, luglio e agosto e settembre-ottobre 2015, deferimento per il quale lo scorso 17 marzo la difesa della Virtus Lanciano, coordinata dall'avvocato Edoardo Chiacchio, aveva ottenuto un rinvio della decisione per poter produrre ulteriori documenti a sostegno della tesi difensiva. Gli altri due relative alla mancata attestazione del pagamento di ritenute e contributi per i bimestri suddetti, entro lo scorso 16 febbraio e al mancato pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre al calciatore Manuel Turchi, sempre entro il 16 febbraio. Secondo quanto riportato nel comunicato del TFN, non ha retto la tesi difensiva per i primi due deferimenti, secondo la quale di meno di Bucchianico, all'epoca dei fatti, sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza, attribuiti invece al DS Luca Leone, circostanza smentita dalla consultazione delle visure camerali. Circa il terzo deferimento, la difesa ha prodotto fotocopia di un verbale di accordo sindacale che il TFN ha definito privo dei requisiti di validità, autenticità e certezza della data. Dunque il collegio giudicante ha accolto in toto le richieste formulate dalla procura, una decisione che la Virtus Lanciano ha già fatto sapere che contesterà in appello, anche se sembra difficile ipotizzare uno sconto superiore ad un punto in secondo grado. Una partita che si giocherà essenzialmente sul deferimento per il mancato pagamento del calciatore Manuel Turchi, nel frattempo alla squadra aspetterà il compito più difficile, isolarsi da questo contesto e massimizzare i punti nelle ultime giornate di campionato. La salvezza, con sette punti di penalizzazione complessivi attuali, avrebbe il sapore di un'impresa epica.